Musica Vigiano 6 novembre, celebrato il giorno dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. L'evento ha avuto inizio alle ore 11 con la celebrazione della Santa Messa in suffraggio dei caduti di tutte le guerre, presso la Basilica Santuario. A seguito, alle ore 12, vi è stata la cerimonia dell'alza bandiera con la presenza delle massime autorità civili e militari. Hanno fatto seguito, alle ore 12 e 30, la deposizione di coroni di alloro presso i monumenti ai caduti di tutte le guerre. In convomitanza ha preso la parola il sindaco Medeo Cicala. La cerimonia si è conclusa con la consegna delle onoreficenze al merito della Repubblica Italiana ed è stata aglietata dal complesso bandistico la nuova filarmonica di Vigiano. La partecipazione dei cittadini è stata numerosa. La partecipazione dei cittadini è stata aglietta dal complesso bandistico la nuova filarmonica di Vigiano.